Non ci consiglio, perché siete insoddisfatti dell'operato del governo Letta sul caso Electrolux? C'è un problema legato a una questione che oramai è diventata un po' così perniciosa. E la questione è legata all'atteggiamento che questo governo, come il governo Monti, hanno avuto nell'affrontare quelle che sono le oramai decine di casi come quelle dell'Electrolux. Noi ne abbiamo avute parecchie anche in Lombardia, ne abbiamo avute parecchie a Bergamo e qualcuno anche in Valseriana. L'atteggiamento che hanno avuto è stato sempre quello di cercare di capire in che termini accompagnare l'azienda a quella che è la cassa integrazione. O quantomeno di accompagnare una parte dei dipendenti a questo status sociale che nessuno si augura. Invece c'era da fare un altro ragionamento. Allora, se l'Electrolux, gran parte della sua produzione la vuole spostare in Polonia, chiediamoci il perché. Perché qui costa 24 euro all'ora l'operaio, il dipendente, e là invece costa solamente 6 euro. Io credo che 24 euro siano anche pochi per un dipendente, perché poi l'ordi netti saranno 8 o 9. c'è da capire se questo governo ha voglia di ridurre il cuneo fiscale, se vuol dare una mano a queste aziende per rimanere sul territorio, se deve evitare nel modo più assoluto, cosa che abbiamo anche proposto in alcune proposte di legge, vuole evitare di dare dei finanziamenti per gente che poi prende l'azienda e la sposta da qualche altra parte. Ecco, questa è l'insoddisfazione che noi abbiamo e non c'è una capacità veramente di interagire con queste aziende e cercare di far pesare, proprio nel vero senso della parola, la politica industriale. Forse perché è una politica industriale e questo governo non ce l'ha, non ce l'avevamo molti prima. Noi abbiamo indicato, come facciamo sempre, una strada maestra da percorrere, che è quella dell'ottimizzazione delle risorse, ma vedo che non ci sentono, probabilmente sono più attratti dalla legge elettorale e da casini interni che questo governo ha tra Letta, Renzi e quant'altro.